Ciao a tutti e bentrovati. L'ingrediente della ricetta di oggi è il mandarino, quindi prepareremo una sfiziosa mousse di mandarino. Gli ingredienti sono mandarini, delle uova di cui useremo solo i tuorli, dello zucchero semolato, della fecola di patate, zucchero anigliato, succo d'arancia, succo di limone, vino bianco, panna e rum. Per cominciare taglieremo a metà i mandarini e ne estrarremo il succo. Aggiungete i tuorli, lo zucchero, la fecola di patate, il succo di arancia e di limone, il vino bianco, la buccia del mandarino e cominciate ad amalgamare. Disponete la ciotola bagnomaria in una casserola abbastanza capiente. Continuate a sbattere il composto finché la crema non comincia ad addensarsi. Mi raccomando, non la portate ad ebollizione. Dopodiché toglietela dal fuoco e lasciatela raffreddare. Unite il rum e continuate a mescolare finché non si siano ben amalgamati tutti gli elementi. Ora è il momento di montare la panna. Uniamo la panna montata con lo zucchero vanigliato alla crema ai mandarini e amalgamiamo per bene. Riempite le 4 coppette e lasciatele solidificare per 30 minuti in frigo. Ed ecco una deliziosa mousse al mandarino. Non resta che assaggiarla.